Ben tornati da Paolo Corazzona, questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo a medio termine, vedremo come si chiude questa settimana e daremo un accenno anche a come comincerà la prossima. Ebbene questa settimana, ormai l'avrete già sentito, si chiude in realtà all'insegna del maltempo, una perturbazione piuttosto intensa venerdì darà il peggio di sé nelle regioni centro-meridionali, portando nuvole, pioggia, anche rovesci temporali, quindi precipitazioni localmente di forte intensità accompagnate anche da raffiche di vento. Invece il nord Italia verrà solo lambito da questa perturbazione, però le regioni di nord-ovest e l'Emilia-Romagna qualche goccia d'acqua la vedranno e come. Poi cosa succederà nel fine settimana? Piano piano questa perturbazione si sposta verso sud-est, le prime regioni ad essere abbandonate dalle nuvole saranno quelle settentronali, dove già sabato torneranno ampie zone di sereno, invece sabato ancora al centro-sud alta probabilità di piogge e rovesci, soprattutto nelle ore centrali del giorno, classica instabilità primaverile. Domenica poi ulteriore spostamento verso sud-est della bassa pressione, quindi tempo buono al centro-nord, invece residui temporali nelle regioni meridionali, ma sempre fenomeni più che altro pomeridiani e di breve durata. E poi buone notizie per l'inizio della prossima settimana, chi vede una rimonta dell'alta pressione e quindi condizioni meteo buone e clima mite in tutta Italia. Con questo è